L'Unione Europea è fallimentare, ritardi, mancati arrivi, autorizzazioni date e poi tolte, giorni persi, noi ci stiamo muovendo in autonomia come altri paesi europei, quindi lavorando come matti per cominciare una produzione nazionale e cercando all'estero quello che non ci arriva da Bruxelles, è un peccato perché le regioni, tutte le regioni, tutti i colori politici sono pronte a viaggiare a 100, purtroppo devono andare più lente perché manca la materia prima. È un fallimento dell'Europa? Ditemi voi, qua c'è di mezzo la salute dei cittadini, io poi l'Europa l'ho contestata in altri casi, sui temi dell'agricoltura, la direttiva Bolkenstein, alcune scelte sull'immigrazione, qua però c'è di mezzo la salute dei cittadini, quindi non è possibile che oggi, martedì, ci siano alcuni paesi europei che vaccinano con AstraZeneca e altri che invece non lo fanno, con un ente europeo che dovrebbe dire sì o no, non ha senso, spero a proposito di autorizzazioni che l'attendibilità e l'affidabilità del vaccino russo Sputnik, sempre dall'Europa, arrivi rapidamente.